Il sostegno del Comune c'è e ci sarà, a patto di averne diritto. Ma se così non fosse, ci sono gli strumenti per togliere gli aiuti a chi non ne ha titolarità e assegnarli invece a chi il bisogno ce l'ha davvero. Perché tra tante persone in difficoltà ce n'è anche qualcuna che ha la faccia tosta di salire a bella posta sul carro dei perdenti, intesi come poveri, allo scopo di accedere alle prestazioni sociali agevolate. Per scoprire questi furbetti è stato firmato questa mattina a Chieti un protocollo d'intesa tra il Comune e la Guardia di Finanza Provinciale. L'accordo è finalizzato ad accertare i requisiti dichiarati in fase istruttoria per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune. Alla fine del litter programmatorio e concessorio che il Comune fa, secondo delle graduatorie, per la concessione appunto di questi benefici, se ci siano dei sospetti si può ottenere la collaborazione della Guardia di Finanza affinché questi sospetti vengano confortati o fugati a seconda appunto della situazione e quindi rendere il Comune più tranquillo proprio nella erogazione di questi benefici. Perché il principio è che se li diamo a chi non ne ha diritto poi non riusciamo a darli a chi ha diritto? Assolutamente sì, è un principio sacrosanto di qualsiasi società civile e democratica. Secondo questo protocollo dunque la Guardia di Finanza interviene a istruttoria conclusa cioè quando il Comune ha detto sì per me ci sono i parametri per erogare questi benefici però qualche elemento di sospetto c'è e lì vi passa la palla e voi andate a indagare più approfonditamente. Qua in che modo lo fate? Per la concessione di queste prestazioni sociali agevolate il Comune fa affidamento esclusivamente su un'autocertificazione. Ovviamente l'autocertificazione che è appunto una procedura prevista per richiedere una determinata prestazione sociale evidentemente ha bisogno in alcuni casi di essere riscontrata. La conoscenza del Comune nell'ambito dell'istruttoria o attraverso la rete di conoscenze sul territorio può sicuramente prendere in considerazione degli indici di rischio che magari meritano di essere approfonditi.